Musica Ben trovati nello spazio dedicato all'informazione su Teletruria. Apriamo con la cronaca, infatti proseguono le indagini sull'anziana signora trovata morta in via Montanara. Sono molti gli interrogativi ancora senza risposta sulla vicenda di cronaca di Saione. La polizia sta portando avanti tutti gli accertamenti del caso e le prime risposte potranno arrivare dall'autopsia disposta su richiesta del PM Giulia Maggiore. La data è ancora da stabilire, quello che si sa è che verrà eseguita dall'equip di Siena. All'esame della polizia anche il cellulare e i conti bancari della figlia, ancora irreperibile. Ricordiamo che la donna viveva con la madre ed è stata avvistata circa due settimane fa a Rimini. Nel frattempo emergono nuovi dettagli sui mesi precedenti il macabro ritrovamento. La proprietaria dell'appartamento di via Montanara a fine luglio ha fatto una segnalazione alla ASL. Era infatti preoccupata perché non aveva rivisto l'anziana affittuaria e si voleva sincerare che fosse appropriatamente accudita. Ma in questi casi si può intervenire solo se è il diretto interessato a chiedere assistenza o un familiare. Tutto il vicinato, a dire il vero, era in pensiero e c'è anche chi ha riferito di aver visto un'ambulanza pensando che fosse per la signora. Il pensiero dei locatari è andato anche alla figlia, più volte contattata ma mai trovata. Ed ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla giostra del Saracino, sciupata ahimè da alcuni tafferugli davanti al Teatro Petrarca. Stamani vertice in questura per stabilire eventuali reati e responsabili. L'obiettivo è che a giugno non si ripetano tali eventi. Girano da ieri sera sul web un paio di video che riprendono i tafferugli per usare un eufemismo tra quartieristi durante il corteggio storico. La scena si volge davanti al Teatro Petrarca. Da dove si è scoppiata la miccia che ha fatto esplodere il tutto non si sa. Di certo si vedono sostenitori di Porta Crucifera vestiti prendere anche una lancia quasi a volere infilzare i competitors, soprattutto quartieristi di Porta Santo Spirito. Scene da far west che hanno fatto indignare tutto il mondo della giostra con i rettori e i capitani dei quartieri avversari a ripetere in coro che questo no non è lo spirito della giostra e che no la violenza non è il solito colore. Non quando manda le persone all'ospedale come è successo ieri, non quando gli sfottò sfiorano anche in maniera pesante le bocche dei bambini che da grandi avranno imparato che l'aggressività, la rabbia e le male parole sono il modo giusto per sostenere le proprie idee e i propri colori. In piazza poi sempre i figuranti Cruciferini si sono resi protagonisti di un altro brutto episodio al giostratore bianco-verde Tommaso Marmorini che scendeva al pozzo per correre la sua carriera su un cavallo esordiente. Peraltro è stato gettato di tutto, dalla sabbia alle scarpe ad altri oggetti. Il cavallo terrorizzato è stato calmato dalla bravura del giostratore che non si è scomposto e naturalmente dalla freddezza di Martino Gianni che ha spostato il cavallo verso la parte meno rumorosa della piazza. Troppa violenza non fa bene alla giostra, non fa bene allo spirito di festa e cavalleresco della manifestazione, non fa bene ai cavalli verso i quali vengono spese parole di amore salvo poi dimenticarle per fare rumba. La Digos sta indagando sugli episodi avvenuti davanti al Petrarca. I quartieri estranei chiedono che venga fatto rispettare nei fatti quanto si afferma ai tavoli dell'ordine pubblico o che vengano prese pesanti sanzioni, ma sul serio questa volta. E sono stati ben 14 gli interventi del 118 ieri per la giostra della Saracino, 11 interventi sul posto per malori e 3 accertamenti agli ospedali, un numero piuttosto alto. Centrale del 118 il giorno dopo la giostra del Saracino, quanti interventi avete fatto intanto? Ieri sono stati fatti 14 interventi di soccorso durante la giostra, diciamo che rispetto alla media degli scorsi anni sono nettamente superiori, un po' sono chiaramente, molti sono dovuti al caldo che non è tipico del periodo e altri sono legati ai famosi tafferugli, più che tafferugli anche a disaccordi tra i vari quartieri. La macchina del sistema ha funzionato perché siamo riusciti nonostante il grosso numero di interventi e la diversa dislocazione, perché la cosa anomala è stata anche il problema lungo il corteo, diciamo che le risorse che avevamo previsto sia strategiche in vari punti del corteo e quelle al seguito hanno fatto in modo che comunque non ci fossero complicanze, che i soccorsi fossero rapidi ed efficaci. Tutti gli eventi correlati alla giostra e al corteo sono stati gestiti dalla piazza e dalla centrale mobile che era posizionata su Alprato. Tutti gli altri mezzi sono i mezzi messi a disposizione dalle associazioni del volontariato, quindi Ampass, Misericordia e Croce Rossa, che come sempre in questo tipo di eventi ci danno un grosso supporto. Soddisfatto? Sì, diciamo soddisfatto perché è stata una bella prova impegnativa, nulla toglie che non si possa migliorare, però visto anche i disordini lungo il corteo siamo riusciti a tamponarli, a gestirli in modo adeguato e in tempi brevi diciamo che il bilancio è nettamente positivo. E adesso andiamo ad analizzare le carriere della scorsa giostra della Saracino. Bravi i giostratori del quartiere di Porta Sant'Andrea, ma il primo della classe è Gian Maria Scorteci. Va in archivio la 146esima edizione della giostra del Saracino con Carlo Farsetti in postazione di commento proprio in occasione domenica 1 settembre della giostra. Facciamo il punto chi sale e chi scende. Direi Gian Maria Scorteci era già lassù, se possiamo ha sfondato le nuvole, il cielo è andato ancora più in alto, bellissima carriera, ci ha provato a spezzare la lancia e ha colpito un centro perfetto. Abbiamo purtroppo un Elia Cicerchia invece che è andato naturalmente asceso, ha avuto dei problemi con il cavallo, ha avuto dei problemi anche durante la settimana, non è riuscito tanto a correggerli, anche se la giostra poi in realtà, scusami, la carriera che ha fatto in giostra non era male di quel cavallo. Passiamo a Porta Crucifera, un Lorenzo Vanneschi in netta crescita, nonostante le due carriere lente, lì è un problema più di cavallo che di lui e anche la seconda carriera è stata molto condizionata dal cavallo che non avanzava. Da quello che ho visto io per ora, poi li riguardano meglio, sembra proprio che questo cavallino è neanche inciampato, ma dietro ha perso come se il nodello gli avesse ceduto. Stessa cosa devo dire per Gabriele Innocenti, anche se non è arrivato al punto, però rispetto a giugno è migliorato, è molto migliorato, quindi un po' in crescita anche lui. Deve lavorare molto, secondo me, sull'impostazione, perché non ha un'impostazione che gli permette di arrivare al 5 facilmente. Sant'Andrea era un po' la grande novità con questi nuovi binomi? Sì, una novità, ma due super campioni, questo da prima che arrivasse Martino erano due ragazzi che facevano 5 a cadere. E' chiaro, con la guida di Martino si sono ancora fortificati, si sono fidati di lui e dello staff tecnico nel cambio di cavallo. Toro seduto, che tutti lo aspettavano al Varco e gli altri quartieri, in particolar modo invece è andato benissimo, ha avuto quel disturbo, non l'ha neanche scalfito. E' un cavallino che fa le carriere più veloci, più come piacciono a me, anche da vedere. Sono riuscito ad andare al punto, quindi in crescita tutti e due. Porta del foro? In Giostra gli è mancato quel capello, perché poi alla fine se andiamo a vedere i punteggi è proprio millimetrico. Tanto più che Tallorino, ho saputo stamani che ha il piede ingessato, insomma, quindi con la caduta un po' ha subito e magari non era al 100%. Davide Parzi, che a me mi sembrava un 5, lo rivedremo a febbraio, lui stesso diceva che era 5. Comunque li metto in su un più anche a loro. Chiudiamo la pagina relativa alla Giostra del Saracino e ritorniamo alla cronaca, entra in banca e dà in escandescenze. E' successo stamani, intorno a mezzogiorno, nella filiale BPR di Arezzo, dove sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno fermato e identificato l'uomo. I presenti nell'agenzia hanno vissuto attimi di paura, ma non ci sono state conseguenze per nessuno. Apriamo la pagina politica, che porta in primo piano egiziano Andreani, che lascia la presidenza della Commissione Bilancio. Per la provincia, situazione di stallo nel centro-destra. Intanto Donati cerca le firme per la lista e a Montevarchi un assessore si dimette. La settimana politica tiene al centro il caso provincia, dove il centro-destra cerca la cosiddetta quadra in vista della presentazione della lista che verrà. Ma in mezzo ci sono due dimissioni che sono destinate a fare rumore. La prima è quella di Egiziano Andreani, che ha lasciato la presidenza della Commissione Bilancio a Derezzo. L'altro botto arriva da Montevarchi, dove un assessore della Giunta Chiassai ha tolto il disturbo. Si tratta di Lorenzo Posfortunato, che ha rimesso le sue deleghe al sindaco. E per il vertice, in provincia, l'area del centro-destra si è dato appuntamento in Sala Rosa alle 18 di oggi. Stanza interdetta all'interno per le telecamere. In tanti si sono collegati. Complice anche il pesante temporale che ha investito la zona. Segnalata la presenza del sindaco, Ermini di Castiglion Fibocchi, il primo ad arrivare con l'ombrello, seguito dal consigliere uscente Simon Pietro Palazzo. Alla spicciolata sono giunti il segretario di Forza Italia, Mennini, che ha fatto il suo ingresso con l'assessore di Castelfranco, Piandisco Morbidelli, che della provincia è consigliere uscente e assai polemico con chi ha chiesto il repulisti totale. Presente anche il sindaco di Laterina, Pergine Tassini. Tra gli altri segretari di partito, spiccava la presenza di Francesco Lucacci, dei fratelli d'Italia, che successivamente è stato seguito da Gianfranco Vecchi della Lega. Non poteva mancare in questo consenso anche il presidente di Estra, Francesco Macri. Assente, per ovvie ragioni, Mario Agnelli, che è stato sostituito dal suo vice Davis Milighetti, mentre tra gli ultimi ad arrivare la delegazione di Bibiana, composta dagli assessori Caporali e Frenos, e quella di Montevarchi, con la vice della Chiassai Bucciarelli e l'assessore Piomboni, che quelle scale le conosce molto bene. Assente fisicamente Luciano Meoni, che è fermo sulle sue posizioni. Ha chiesto il rinnovo totale. Nicola Carini ha già anticipato che non sarà della partita, ma si ha l'impressione che a Meoni non sia sufficiente tutto questo. Intanto per la lista è scattato il conto alla rovescia. Resta un rebus la posizione del presidente Polcri, che ancora non ha dato il segnale che più aspettano. E il vice sindaco Aretino Lucia Tanti fa il punto sulle situazioni di criticità in città. Il nostro dossier è quasi pronto, dice, e verrà condiviso con le altre istituzioni. Prosegue il lavoro delle unità di strada della Polizia Municipale di Arezzo sul decoro e sulle fragilità. In queste settimane, riferisce il vice sindaco Tanti, sono stati fatti interventi al parcheggio Baldaccio, al Mecenate, in piazza della stazione, fino ai luoghi maggiormente segnalati dai cittadini, tra i quali Piazza Giotto, Porcinaia e Saione. Le presenze critiche rispetto all'inizio di questa operazione sono diminuite, ma restano alcuni casi aperti, cinque in particolare. Il vice sindaco ricorda che chi rifiuta l'aiuto e chi continua a non voler rispettare le regole, sarà considerato non un caso genericamente sociale, bensì un problema di ordine pubblico. Peraltro, proprio sui casi ancora aperti, sta per essere ultimato il dossier a cura della Polizia Municipale, delle unità di strada, dei servizi sociali e sarà presto condiviso con tutti i soggetti istituzionali. Infine, dal Comune parte un ringraziamento ai cittadini per le segnalazioni puntuali e anche per la grande pazienza e il grande senso di civiltà che dimostrano. E migliorano le condizioni di Mario Agnelli, il sindaco di Castiglion Fiorentino, coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale a Camucia, nel Cortonese, e ricovirato al Policlinico e le scotte di Siena. Nella serata di ieri è stato sottoposto a TAC che è risultata negativa. Si parla di alcune costole rotte. Attualmente si trova in osservazione, ma intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro con un'auto di turisti americani. E non solo la giostra del Saracino, ma attenzioni anche a Montevarchi al gioco del Pozzo che addirittura è stato annullato. Non è stata un'edizione tranquilla quella del gioco del Pozzo di Montevarchi. L'evento che rientra nella festa del perdono è stato infatti segnato da polemiche e tensioni. I disordini sono scoppiati durante la partita delle semifinali tra i gialli di Santa Maria e i verdi di San Lorenzo. La situazione è peggiorata quando dagli spalti è stato lanciato un oggetto. La tensione accumulata ha avuto conseguenze anche sulle fasi finali del torneo che si sono svolte ieri sera. Già prima della finale le squadre dei rossi di Sant'Andrea e dei Verdi avevano rinunciato a giocare la partita per il terzo e quarto posto manifestando il loro dissenso per come era stata gestita la competizione. La finale prevista tra i gialli e i blu di San Francesco non si è disputata perché anche questi ultimi si sono rifiutati di scendere in campo in segno di protesta. La decisione ultima è stata quindi quella di assegnare la vittoria a Tavolino ai gialli del gonfalone di Santa Maria. Quanto è accaduto è stato stigmatizzato dal sindaco di Montevarchi Silvia Chassai Martini che in una nota afferma che non vi è stato un atteggiamento responsabile da parte di alcuni giocatori che non hanno rispettato le regole condivise. A seguito della visione dei filmati inoltre sono stati individuati i responsabili dei lanci che saranno perseguiti dalle autorità preposte. L'amministrazione conclude che Chassai Martini è amareggiata per la scelta legittima ma non condivisibile delle tre squadre che hanno deciso di non scendere in campo e che hanno determinato la vittoria a Tavolino dell'unica squadra rimasta. Ripercorrere tutti i personaggi che lo hanno reso celebre facendo una sorta di sfida allegria e gioia con le canzoni dell'amico cantautore. Questo è il senso dello spettacolo portato in piazza da Giorgio Panariello e Marco Masini a Cortona. Le regole di questa sfida sono chiare io devo fare in te te devi far piangere te devi essere in pre-rava l'incoloia che cosa è questa cosa che ti metti a far in te anche te? Alle mie spalle stanno lavorando per smontare il palco che ha ospitato fino a pochi minuti fa lo spettacolo di Marco Masini e Giorgio Panariello una serie di duetti tra canzoni e battute personaggi famosi di Giorgio portati sul palcoscenico con grande disinvoltura e tutte le canzoni più belle di Marco Masini che per inciso ha voluto fare un omaggio a Francesco Nuti con Sarà per te uno spettacolo con tantissime persone praticamente sold out sì una piazza stupenda davvero composta ma tanto divertimento Panariello è un mito insieme a Masini e siamo davvero soddisfatti ringrazio la Cortona Sviluppo e tutto il mio team per aver organizzato una serata non solo piacevole ma interessante collegata alla nostra Cortona Antiquaria che è la 62esima edizione Ecco lei ha avuto la fortuna di andare a salutare gli artisti dietro le quinte che cosa le hanno detto sono rimasti soddisfatti di questa atmosfera? Sì sono rimasti impressionati dalla piazza sono rimasti davvero basiti nel vedere la piazza piena e soprattutto tanto entusiasmo del pubblico e penso che per un artista sia il massimo insomma una serata che ha sicuramente allietato in maniera piacevole ed anche incisiva le iniziative della Cortona Antiquaria cambiamo argomento le acli di Arezzo sono proiettate verso il congresso 2024 il più importante incontro dedicato a programmazione organizzazione e rinnovamento dell'associazione è fissato per sabato 26 ottobre al circolo di San Giovanni Valdarno andando a proporre una giornata di confronto tra tutte le componenti acliste per definire gli orizzonti operativi del prossimo quadrienno questo appuntamento sarà anticipato dai congressi dei 34 circoli che daranno voce a tutti i 3600 tesserati delle acli per far emergere problematiche e potenzialità dei territori con la volontà di attivare nuovi progetti e servizi una tappa importante per il futuro dell'associazione sarà rappresentata anche dall'ormai prossimo trasferimento della sede provinciale in via Montefalco taglia il traguardo delle 11 edizioni il Warehouse Festival l'evento promosso da Mango e Aisa in Pianti è in programma sabato 7 settembre nell'area verde di San Zeno Warehouse Festival festival per i giovani ma non solo combina lo spettacolo con la sensibilità ambientale e rientra nell'ambito del progetto Zero Spreco sensibilizzare i giovani e non solo loro a tematiche ambientali fondamentali a impattare il meno possibile sull'ambiente portandoli a una manifestazione musicale che ha al suo interno artisti molto rinomati e importanti che attirano questi ragazzi queste persone questo è proprio il fulcro della nostra proposta quest'anno in particolare col bicchiere diciamo che sarà portabile a casa quindi non andrà a creare consumi e spreco di plastica è proprio concretamente visibile come attività e poi i grandi nomi della musica da Lex Neri a Bunker a Disgaccia per intrattenere e divertire il pubblico portandoli a un ambiente comunque da conoscere e da scoprire un appuntamento all'insegna della qualità musicale e artistica creando comunque momenti di aggregazione sono momenti importanti noi ci rendiamo conto che queste serate iniziate all'inizio un po' così per scherzo sono invece molto importanti stanno dando un segnale di cambiamento inoltre consentono a chiunque vuole di poter di avere anche dopo scena una serata per poter venire a vedere l'impianto e vederlo in tutti i suoi aspetti basta che lo chieda l'impianto è sempre aperto la stessa serata poi abbiamo anche il gruppo Astrofili Aretini che attraverso l'osservatorio astronomico che è presso di noi farà vedere a chi lo vuole le stelle della serata tra cui Saturno è stato proiettato al Lido nella sezione dedicata ai giovani autori il docufilm per la regia di Tommaso Gorani che vede in primo piano Gioele Meoni e il suo lavoro in Africa nel nome del padre Fabrizio re della Dakar un mosaico di emozioni una storia che parte da lontano e che va a comporre un docufilm che nel giorno del suo compleanno Gioele Meoni ha presentato in anteprima a Venezia in occasione della mostra del cinema un sogno come ha spiegato Gioele online il docufilm è stato proiettato in anteprima nel nome del padre rappresenta un anno di riprese e di contributi per parlare di una storia vera quella di Fabrizio e del piccolo Gioele che alla fine riesce a partecipare e a portare a termine peraltro con successo primo degli italiani la sua Dakar un progetto che va avanti per vendere poi la moto che sarà acquistata con i contributi della donazione la moto con cui ha corso la Dakar e poter contribuire a realizzare due progetti in Africa ne abbiamo fatte tante molte sono raccontate qui spiega Gioele Meoni sulla sua pagina facebook a proposito del docufilm chi lo avrebbe mai detto è andato tutto come volevo che andassi in una Dakar è molto strano è stata dura ma rifarei tutto vedersi in terza persona in un film fa un certo effetto però che bello io sono Gioele Meoni e mio padre era Fabrizio Meoni e a proposito di Aretini a Venezia all'Hollywood Celebrities Village oltre ai prodotti della valdichiana di Dante Moretti spiccano le pizze del mulino di Rassina nel comune di Castelfocognano che rappresentano la delizia dei VIP presenti al Village un vero successo al momento per un lavoro di un gruppo che paga e torna la maratona del Calcit all'Arezzo Fiere e congressi una settimana ricca di eventi dal 3 all'8 settembre Presidente Sassoli questo è un appuntamento ormai ricorrente che sta direi coinvolgendo tutte le varie componenti cittadine ci saranno novità nell'edizione di quest'anno? Sì diciamo una delle novità la prima serata di questa iniziativa che si chiama Calcit in Scena e andrà dal 3 settembre all'8 settembre e apriamo con una festa di finestrata dedicata ai bambini e poi parliamo di sport con il Museo Maranto parliamo di salute con i professionisti del nostro ospedale parliamo di teatro con il Polvarone parliamo di musica di danza e di concerti con l'orchestra Croce Bianca e la domenica facciamo il mercatino dei ragazzi che serve questo in particolare per la raccolta fondi Vice sindaco è un binomio quello tra comune di Arezzo e Calcit che ormai direi continua da molto tempo in modo vincente anche sì credo che non finirà mai nel senso che sono due istituzioni che stanno insieme ormai Calcit è un'istituzione di questa città è dal 78 che lavora per la sanità retina ma lavora per la città di Arezzo in tutte le sue sfumature sei giorni come quelli che ci aspettano che aprono con una festa e che però vengono intervallati da momenti di aggregazione di riflessione e anche di conoscenze di cultura dimostrano come ormai il Calcit non è soltanto un grande strumento per trovare risorse ma è un grande contributo per la comunità e la retina Erika Boldi è Miss Reginetta d'Italia Over la proclamazione a Riccione Erika è originaria di Sinalunga ma è ormai a retina di adozione sul palco con lei Matilde Brandi che ha speso parole sui diritti delle donne e contro la violenza di genere siamo in chiusura ma questa sera subito dopo il Tg delle ore 20 e 30 potrete assistere a Newsline dentro la notizia a cui farà seguito 9 e 10 che oggi si occupa delle polemiche sorte a Monterchi sulla scelta del tracciato della E78 la serata proseguirà poi con un appuntamento speciale di caffè bollente in diretta dedicato all'analisi dei quanto accaduto ieri durante l'edizione della giostra del Saracino alle 23 consueto appuntamento con in compagnia di Alessio bene quindi il programma di stasera è ricco rimanete con noi io vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sovrapposti